ragazze ecco Lulu con la sua coperta ehi sveglia dormiglione dai che dobbiamo andare a fare colazione su ehi dai 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 sveglia su 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 svegliarsi buongiorno Luli buongiorno ma di chi è questo? io guardate il mio fondo hai messo una tua foto che bella che sei guardate che carina che sei wow allora svegliarsi perché dobbiamo andare a fare colazione proprio dovete essere un fulmine Auri soletica a tutta forza vai Lulu vai attacca 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 Lulu attacca guardate che lì Aurora vi sta guardando la principessa Aurora guardatela lì su 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 andiamo colazione ragazzi mi sono portato il telefono e me lo porto sulle giostre perché non può mai mancare solta adesso te lo porti sempre a presto questo telefono e guardate giù la carta della Vega si dai dai andiamo a fare colazione su che è tardi e poi dobbiamo andare sulle giostre dai 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 Auri tu sei pronta? a fare colazione si si vai vai dai dai dove? ragazzi zero zero qua? si zero brava guardate mi sono messo gli orecchini hai gli orecchini nuovi ti sei messa si si Ludo c'hai fame? si io ho tanta io ho il telefono alla parte eccoci eccoci qua stiamo andando a fare colazione Ludo mamma mia ragazzi non poterò di andare sulle giostre sono molto eccitata allora questo è l'albergo da fuori da quest'altro lato Ludo cosa ti sei presa per fare colazione? bene ragazzi vorremmo vedere fare la colazione il pasto più importante della giornata allora alla faccia del pasto più importante della giornata tu tutta sta roba ti sei presa? ragazzi c'è una cosa mamma che succede? una Ludo Ludo non ti sporcare dovete sempre questo panino la devi chiudere e dare morse chiudila panino brava tira su le maniche e dai un bel morsone aah 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 Ari tu cosa mangi? come prima cosa? prima cosa aah aah mamma ci siamo cintate le mani vero? si Ludo ma cosa ti sei presa? i panini integrali ai cereali com'è questa crepe? buona da bere? cosa ti vado a prendere? latte bello lattone avrì tu? ok dai apri le danze com'è? buono? di soia è di soia? quello che mi piace anche in me allora mamma io direi di mangiare più dolce più buona che cina ovvero questo è il saccottino a cioccolato troppo buono è squisito questo è troppo buono ragazzi questo è troppo buono eh sì sta arrivando papà con il cappuccino questo 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 papi tu cosa mangi? l'americano da un po' ma a noi le piace il latte non sai mangiare così salata buono dai l'ha fatto con prezzemolo c'è prezzemolo? sì allora andiamo 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 a vedere ragazzi abbiamo preso le foto? sì abbiamo preso le foto adesso ve le facciamo vedere ragazzi allora ora vi faremo vedere le nostre foto vediamole allora prima è questa dai fammi vedere vediamole che bella foto wow così ce la teniamo per ricordo ok e poi l'altra aspetta oh Fauri e Luli oh va bene dai ragazzi andiamo su andiamo a prendere le valigie in camera e andiamo al parco mamma ah inizia la faccia tu mi sei spuntato no al parco giochi Ludo guarda allora ragazzi siamo ritornati in albergo e adesso riproviamo ad aprire la cassaforte allora abbiamo letto tutte le indicazioni dai inserisci i numeri ok il primo numero è sempre lo zero premi lo zero zero senza abbaiarti guarda la lampada che un candelabro la foggia è colta ogni candela che si di questo foggia il candelabro il candelabro una due tre cinque sei vai segna sei segna sei fatto fatto poi ora il nome del principale dei capelli blu conta quanti ne vedi né uno in meno né uno in più una la una due il quadro e mamma tre tre e quattro e quattro vai vai schiaccia quattro fatto poi quattro guarda il dipinto grazie che quante sono le farfalle riesci a vederle due due farfalle vai vai due fatto sono l'orologio che scorre sulla torre del castello l'orologio segna le dodici vai ok dodici uno due perfetto vediamo oddio aspetta vediamo cosa c'è non si apre del tutto però ok no c'è un regalino che carino Ludo un altro regalino guarda il regalino vediamolo tre puzzle che meraviglia sono tre puzzle Ludo ma Prezzemolo lo sa che tu ami puzzle va bene dai dai adesso possiamo andare su su che il parco giochi ci aspetta abbiamo aperto la cassaforte ed è uscito questo bel gioiellino andiamo mamma c'è tutti questi pallone andiamo signorine Ludo tieni la tua borsetta mamma mi stai chiedendo io e i palloncini su su dove è la nostra camera? no adesso dobbiamo ritornare vai Ludo dai che il parco ci aspetta guarda adesso dobbiamo andare a cassa guardate guardate mi sono messa la mia borsetta mamma che bella ok tre due una vai dai 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 andiamo a posare le valigie in macchina e andiamo al parco vai Ludo vai Ludo vai Ludo vai Ludo ma è la mia borsetta ma è la mia borsetta mamma e papà papà mi si aspetta giù Auri ma dove vai con tutti questi palloncini? ecco stiamo andando al parco questi palloncini su parkour è alla moda oddio mamma senti ok c'è la donna Ludo ti aiuto Ludo Luli piano ti aiuto amore Ludo ma sta fatica fai Lulù Ludo Ludo ragazze ce la fate mamma guardate la borsa guardate che meraviglia da qui sopra lì è dove abbiamo festeggiato il compiano di Ludo ieri guardate che bello bellissimo ragazzi allora se vedete un cambiamento di vestiti è perché faceva troppo caldo con quelle felpe che avevamo addosso stavo sudando e poi mamma a me soprattutto deve venire un po' di calore un po' d'ansia perché devo fare anche le giostre paurose o no e io devo fare il bruco ho ansia di danni e macchina le due signorine qui si sono cambiate guardate Lulù come è bella maculata e poi Ludovica era pure tutta sporca perché a colazione si è sporcata tutta adesso però andiamo eccoci qui arrivati a Gardaland al Pasco adesso andremo sulle giostrine Ludo andiamo andiamo vai Ludo vai da Peppa ciao Peppa facciamo una foto bravissime guardate mi fai così con il dito grazie mille ok vai siete pronte per partire vai ciao ciao quanti bei fiorellini wow ci sono i viustel venite venite eccole Ludo andiamo prossima giostra auri attenta perché quando sali qui sopra inizi a girare dobbiamo andare nella ciambella a volo e appena scendono vai vai ma attenta aurora ti prego non farmi il bancho auri ti prego non bagnarmi aurora io sono già bagnata appunto per tua informazione guida bene perché non ho intenzione di andare in nessuna cascata attenta al mio telefono se non ho bagno si non ti preoccupare poi senti auri c'ho paura non so perché mi sono messa nella parte in cui mi bagno di più vabbè sono solamente dettaglio dai ma mamma ma tu sai che poi ci sono anche le cazzate auri auri mamma dove sei mamma 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 c'ho paura mamma c'ho paura mamma c'ho paura mamma non si vede niente non si vede niente non si vede niente non si vede niente oddio io non esisto sono una muglia oh mio dio mamma no 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 non ho ti prego prendi la borsa se no si bagna mamma ci sono le cascate auri auri ma HBR non fudcia a madonna a no nonna no 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 auri ti prego a software a a ma oddio oddio mamma no 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 ma io ho cambiato posto nora auri mamma ah 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 nooo nooo oddio oddio auri auri nooo che cavolo aurora aurora attenta aurora attenzione oddio mi sono bagnata su dai dai piano piano mi sono bagnata auri oddio 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 ti baghi ti baghi no 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 mi bagno mi bagno aiuto no vabbè ho tutti i jeans bagnato aaaaaaah 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 oddio oddio mamma mia auri ok va dai auri cosa ho fatto spruzzo oddio mi sono bagnata attenzione mi sono bagnata attenzione signora oh my god ok è finita quando vedi tutto ciò madonna no 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 non ho visto una discesa madonna aurora ma vedo una discesa no c'ho paura meditiamo madonna aaaaaah aiuto no aurora attenta attenta auri esce l'acqua da lì attenta oddio ok è finito io non ci vengo più con te io con te non ci vengo più facciamo un altro giro non ci penso proprio mi sono bagnata tutta tutta mi sono bagnata guarda qui guarda qui tutta mi sono bagnata eccoci sane e salve l'unico problema adesso è che dobbiamo scendere a volo perchè questa cosa cammina sempre dobbiamo scendere a volo auri perchè questa non si ferma mai questa cosa sei pronta a scendere a volo anche io oddio oh mio dio auri sei pronta su che devi scendere a volo su questo carellino grazie aspetta auri auri c'ho paura no no hai un altro giro? no dove stiamo andando Ludo? ciao wow 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 nudo dove si sta portando questo trenino? dove ci porta dove ci sta passando ecco quelle sono le montagne russe che dovrà fare Aurora io non lo faccio eh sì eh Ludo ti piace questo trenino wow quella è la casa di prezzemolo wow Ludo dai lo so che questo è il tuo mondo ma basta pupazzi no l'ultimo no l'ultimo dobbiamo andare l'ultimo no l'ultimo ciao Ludo che bello Ludo come è bello quello guarda si dove andiamo che bel cavallo pure papà pure papà guarda il mio cavallo si chiama cennico e il mio si chiama stella stella Ludo guarda 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 senta la mia voce eh nelle campioni le leggono ma dove sta andando con questo cavallo sto andando in giro vai Ludo gira 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 gira Ludo come sei bella mamma mia wow sei proprio bella Ari sono ma come io sei proprio bella chi sei? hai visto che sono bella? siete proprio belle mamma mia che bellezza andiamo su dai Ludo non andare troppo in alto che io ho paura c'è la ciruta la che? Ludo non andare troppo in alto che ho paura Ludo 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 abbassa Ludo Ludo c'ho paura abbassa Ludo lascia il manubrio Auri Ludo 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 Luli Ludo che stai facendo con questo manubrio? ciao papi Auri siamo troppo no no c'ho paura che cavaliere aspetta non 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 tope è ha è è è è è Grazie a tutti.